Via al Super Green Pass, le regole in vigore da oggi I quartieri di Pesaro si riqualificano col bilancio partecipativo Compie 90 anni il Motoclub Tonino Benelli Domenica da incorniciare per WLVS, battute Varese Olbia Domenica da incorniciare per WLVS Delle Digitale Terrestre riparti una nuova settimana in nostra e in vostra compagnia quella con l'informazione serale di Rossini News il nostro telegiornale che in questo lunedì 6 dicembre apriamo con la novità dell'entrata in vigore delle Super Green Pass La lotta alla pandemia infatti passa per un ennesimo cambio di regole che andiamo a chiarire subito nel nostro primo servizio Lunedì 6 dicembre, altra data di svolta nella telenovela che dura da due anni sulle misure di contenimento della pandemia 6 dicembre, data in cui è entrato in vigore il Super Green Pass Anche nelle Marche, come nel resto d'Italia da oggi infatti esiste una certificazione verde base cioè quella ottenuta senza vaccino ma con un periodico tampone negativo ed entra anche in vigore una certificazione verde rafforzata solo per chi è vaccinato o guarito dal Covid-19 Tradotto, da oggi si accede ad alcuni servizi solo col Green Pass rinforzato ovvero solo se si è vaccinati È così per sedersi al tavolo di ristoranti o bar al chiuso è così per accedere a discoteche, stadi, palasport, cinema, teatri o cerimonie pubbliche È invece sufficiente il Green Pass base per recarsi nel proprio luogo di lavoro a scuola, all'università, per accedere al trasporto pubblico, alle mensi aziendali per andare in albergo, in piscina, palestra o per visitare mostre e musei Non serve invece nessuna certificazione per ristoranti e bar con tavoli all'aperto o per accedere a negozi e supermercati Va ricordato che chi è già vaccinato non deve scaricare nessun nuovo Green Pass ma la vecchia certificazione verde si trasformerà in automatico in verde rafforzato Da oggi lunedì 6 dicembre non scatta solo la nuova normativa in termini di Super Green Pass ma ci sono anche altri accorgimenti Tra questi uno dei più delicati è l'accesso al trasporto pubblico scolastico tramite il Green Pass base allargato dai 12 anni in su Ciò significa che anche i minorenni tra i 12 e i 18 anni dovranno essere o vaccinati o presentarsi al trasporto scolastico, ovvero all'autobus, muniti almeno di un tampone negativo Si tratta di una novità di maggiore rigore in una delle fasce anagrafiche in cui il virus sta circolando con più insistenza ma si tratta anche di una ulteriore criticità che va ad aggiungersi ad un settore come quello del trasporto scolastico già particolarmente sensibile E dunque partita oggi anche una complessa macchina di controlli a campione La polizia può controllare chi sale sul bus dove se qualche scolaro viene trovato senza Green Pass rischia una multa che va da 400 a 1000 euro L'effetto di questi ultimi provvedimenti è già quello di una nuova forte spinta alle vaccinazioni con prenotazioni e accessi agli hub praticamente raddoppiati in una settimana La settimana di contagi da Covid-19 nella Regione Marche si è chiusa con 207 casi in più rispetto alla settimana precedente, ovvero con un aumento del 7% Settimana che è ripartita con 149 contagi anche oggi, giornata susseguente al weekend di ridotto numero di tamponi 25 i casi nella provincia di Pesaro Urbino Continuano a salire di altre 4 unità i ricoverati Ora sono 130, 30 dei quali in terapia intensiva Segnalati anche 3 decessi Una donna di 87 anni di Mondolfo Una di 91 di Fano E un uomo di 89 anni di Sant'Elpidio a mare Cambiamo argomento I quartieri di Pantano, Muraglia, Villa Fastigi, Villa Ceccolini e le colline di Novilara, Candelara, Arzilla e Ginestretto sono i territori vincitori dei quattro progetti a cui verranno destinati 100.000 euro dal cosiddetto bilancio partecipativo Si tratta di una prima edizione di una serie di interventi migliorativi della città che partono proprio dalle idee dei quartieri Ci ha illustrato questi progetti l'assessore al rigore delle comune di Pesaro Riccardo Pozzi intervistato dal nostro Antonio Astuti in occasione del format WePesaroTV andato in onda sabato Un format che, lo ricordiamo, viene realizzato da Rossini TV in collaborazione proprio col comune di Pesaro Questo è un progetto nuovo che parte per la prima volta quest'anno e che siamo riusciti a portare avanti davvero con una grande partecipazione e una grande disponibilità da parte dei quartieri che sin da subito si sono messi al lavoro per raccogliere quelle che erano le esigenze che venivano fuori dal territorio hanno coinvolto associazioni, il terzo settore pensando a dei progetti che potessero dare delle risposte Tutti i quartieri hanno lavorato davvero molto bene purtroppo ne potevamo sin dall'inizio finanziare soltanto tre quindi tre o quattro, sapendo che le risorse erano 100.000 che di fatto si realizzava una sorta di contest quattro progetti meritevoli, ma in realtà sarebbero stati tutti da premiare i quattro che la commissione tecnica, poi la commissione bilancio ha deciso di attribuire un punteggio più elevato sono il progetto di Villa Fastigi e Villa Ceccolini che fa dell'inclusione sociale tramite lo sport il filo conduttore di una serie di interventi che andranno a riqualificare le aree sportive il campo da tennis, un'area fitness, uno sgambatoio insomma un bel progetto sicuramente che trova anche dei finanziamenti esterni un secondo progetto quello dei Borghi che mette insieme anche qua i cinque quartieri all'interno di Candelara seguendo il lavoro di un quartiere operoso quindi mettendo insieme, realizzando cinque aiuole nei cinque ingressi dei Borghi aiuole millifere, quindi per la produzione del miele da parte delle api e incentivare anche la presenza delle farfalle mettendole insieme, come dicevo, insieme a dei laboratori didattici quindi laboratori didattici sulle api, sul miele poi un terzo progetto è quello di Pantano che va a riqualificare una delle aree verdi più importanti di Pesaro che è il Parco Trulla, quindi andremo anche qua a investire sulla realizzazione di un campo sportivo quindi sistemare il campo da calcio esistente andare a realizzare un'area fitness, sistemare lo sgambatoio e poi un quarto progetto che è quello di Muraglia che fa invece un investimento importante che coinvolge anche le associazioni di Muraglia, la società sportiva che andrà a sistemare tutta quell'area sportiva che presenta su via Madonna di Loreto, nella zona di Calcinari con la realizzazione di spogliatoi, quindi di container per i bambini per i ragazzi che poi andranno alla scuola a calcio ma anche per poi per tutti i cittadini che vorranno utilizzare quel campo oltre all'area verde che è di fatto un'area, un'implementazione dell'area a supporto dell'asilo e dell'area giochi che è a disposizione di tutti quindi un bel progetto, sarebbero stati da premiare tutti però sicuramente bisognava individuarne quattro e quest'anno, già nella primavera del 2022 penso che riusciremo a vedere concretamente questi progetti realizzati Ed ora una notizia di cronaca arrivata poco fa in redazione grazie ad una delle vostre segnalazioni le foto che vedete infatti si riferiscono ad un incendio divampato questo pomeriggio attorno alle 17 all'azienda Modulo che si trova tra il ponte di Montelabate nella zona che collega il ponte di Montelabate alla zona industriale di via Pantanelli sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri vi daremo maggiori ragguagli nella edizione di domani sulle cause di questo incendio attualmente in corso Ha compiuto 90 anni il Motoclub Tonino Benelli questo weekend le telecamere di Rossini TV si sono accese al Museo Officine Benelli di Via Mameli luogo della memoria di moto e di campioni che hanno attraversato quasi un secolo e che ci vengono ricordati dal responsabile del Motoclub Tonino Benelli Paolo Marchinelli Siamo molto molto felici di ricordare questo anniversario perché il Motoclub Pesoro Tonino Benelli ha un numero di affiliazione alla federazione motociclistica che è 00004 siamo probabilmente il Motoclub più più vecchio d'Italia lo dimostriamo anche ma abbiamo una grande storia e la grande storia è data dal fatto che qui al Motoclub Pesoro Tonino Benelli sono passati tantissimi campioni di motociclismo da Tonino Benelli a Riccardo Brusi Dorino Serafrini nel periodo anteguerra ma nel dopoguerra Grassetti, Campanelli, Lazzarini mi vengono a dire anche Paolo Baronciani Cico Baronciani, Lusso Battisti ma anche Graziano Rossi ma anche Valentino Rossi perché Valentino Rossi è stato un sostro lo penso che sarà anche il prossimo anno sostro del Motoclub Tonino Benelli assieme a Franco Morbidelli ma quest'anno abbiamo una soddisfazione in più perché al Motoclub Benelli grazie alla pista Junior Camp che guarda caso è a Tavuglia abbiamo tantissimi ragazzi iscritti giovanissimi, direi anche bambini se prima eravamo preoccupati che vedevamo al Motoclub solamente gente anziana di una certa età oggi a questa rievocazione siamo felicissimi perché c'erano tantissimi bambini e possiamo guardare veramente al futuro con soddisfazione con felicità perché sicuramente avremo forza giovane a raccontare la grande storia motociclistica di questa città Cambiamo argomento e parliamo di contrasto alla ludopatia Marta Ruggeri, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle è infatti intervenuta ai nostri microfoni per ribadire la sua battaglia e la sua contrarietà all'ennesima proroga di legge nei confronti di locali con slot machine e sale da gioco che continuano ad essere collocate spesso al fianco di luoghi sensibili come scuole, bancomat o compro oro Marta Ruggeri, consigliera regionale da mesi combatte una battaglia contro la ludopatia che però continua ad avere degli ostacoli c'è questa proroga che è assolutamente qualcosa da stigmatizzare Assolutamente sì perché purtroppo sono stata nell'ultimo consiglio regionale relatrice di questa legge omnibus che vuol dire una legge che tratta di diversi argomenti e all'interno di questa legge è sbucato fuori un articolo, il famigerato articolo 8 che proroga appunto la messa a norma degli esercizi che hanno all'interno delle slot machine per il gioco appunto d'azzardo vicino a luoghi sensibili come scuole, università, compro oro, bancomat e quindi è già la legge regionale del 2017 una legge ben fatta c'erano stati già 4 anni per poter mettersi a norma e vi è stato ulteriormente prorogato questo tempo secondo noi, infatti abbiamo presentato sia in commissione che in consiglio un emendamento soppressivo di questo articolo secondo noi è assolutamente intollerabile giocare con la salute delle persone quindi cedere alle lobby economiche piuttosto che pensare appunto a tutelare i soggetti più fragili della nostra società e comunità Si inserisce in questo tema della proroga anche una differenza di trattamento tra categorie in termini di ristori? Certamente perché per altre categorie che sono state soggette a chiusure abbiamo previsto dei ristori cosa che invece non è stata fatta per queste categorie specifiche ed è stato scelto in maniera del tutto intollerabile una proroga per la messa a norma rispetto alla legge regionale Prestigioso premio internazionale per il medico dentista pesarese Mauro Fradeani della Fradeani Education che venerdì davanti a mille esperti odontoiatri di tutto il mondo ha ricevuto a New York il premio Schweitzer per la ricerca da una delle più prestigiose accademie di odontoiatria qual è la Greater New York Academy of Prostodontics il dottor Fradeani ha anche preso parte al meeting scientifico organizzato dalla stessa Accademia in veste di relatore trattando come di suo consueto argomenti di odontoiatria protesica Cambiamo argomento la bohème di Giacomo Puccini secondo titolo della stagione della Fondazione Rete Lirica delle Marche raggiunge il palcoscenico del Teatro della Fortuna di Fano dopo le recite di Ascoli e Fermo andrà appunto in scena sabato a Fano alle 20.30 con un'anteprima giovedì 9 dicembre si tratta di una nuova produzione realizzata con il teatro dell'opera giocosa di Savona e col teatro sociale di Como e che è firmata da Renata Scotto Soprano fra i più celebri del Novecento nonché star acclamata in tutto il mondo da domani, martedì 7 dicembre è possibile esercitare il diritto di prelazione riservato agli abbonati della passata stagione teatrale a Gradara invece l'8 dicembre verrà inaugurata la mostra What If da Francesca Darimini fino ad arrivare all'Edi D sarà un viaggio artistico attraverso il tempo seguendo sempre lo stesso filo conduttore ovvero quello del tradimento la mostra digitale immersiva si dividerà fra la Rocca De Magnale appunto del Borgo di Gradara e Palazzo Rubini Vesin Christmas Village villaggio di Babbo Natale di Piazzale Matteotti a Pesaro decide di far vivere feste più serene alle famiglie più fragili e ai loro bambini della città e a comunicazione responsabile del progetto Christmas Village ha infatti donato alla Caritas di Pesaro 300 biglietti per l'ingresso gratuito al parco natalizio la Caritas poi devolverà questi ingressi omaggio alle famiglie in difficoltà che assiste quotidianamente le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono invece alla partenza di questo weekend degli eventi natalizi nella città di Fano un Natale nella città della Fortuna all'insegna di un centro storico magico attraverso mercatini natalizi il fascino dell'albero della piazza illuminato e della pista di ghiaccio di piazza a Veduti e poi la novità al pincio con i laboratori di pasticceria dedicati ai bambini Massimo Mei della pasticceria Arturo è stato quello che ha inaugurato ieri questa particolare iniziativa di pasticceria dedicata ai più piccoli un Natale a Fano che potrete vedere approfonditamente nello speciale che Rossini TV trasmetterà giovedì 9 dicembre alle ore 20 e 10 Questa sera invece al ristorante Lo Scudiero di Pesaro ci sarà l'ultima delle sfide di Masterfish il seguitissimo format realizzato proprio da noi di Rossini TV e promosso da confesercenti Pesaro e Urbino Questa sera dunque i nostri Paolo Pagnini e Roberta Esperide ci accompagneranno nella gara che vedrà impegnati in preparazioni che saranno all'altezza di veri chef professionisti gli appassionati di cucina Valentina Stupici Vincenzo Vecchione e Katia D'Angeli Dunque non resta che aspettare il quinto finalista prima dell'atto conclusivo che andrà in scena il 14 dicembre nell'area ristorante dello spazio Conad E dunque vi ricordiamo che Masterfish va in onda ogni martedì su Rossini TV alle 21 e 20 e dunque non perdetevi la puntata di domani Ora invece come ogni lunedì ci concentriamo sullo sport con i risultati del weekend dopo una domenica davvero gratificante per VL e Vispesaro Il servizio è di Edoardo Razzi Due vittorie consecutive alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro non riuscivano da tanto tempo Era il 27 dicembre 2020 l'ultima volta e questa domenica a distanza di quasi un anno la storia si è ripetuta Grandissima serata per i ragazzi di Coach Banchi che dalla Vitrifrigo Arena sono usciti con i due punti in tasca dallo scontro salvezza contro Varese 94 a 75 recitava il punteggio per una VL che si è ritrovata e che si è allontanata per la prima volta in stagione dalla zona retrocessione Era indispensabile che riuscissimo ad imporre questo tipo di aggressività complice le evidenti carenze dal punto di vista fisico e atletico che avevamo praticamente in ogni ruolo quindi era determinante partire dalla pressione sulla palla a riuscire a lavorare prevenendo quelli che potevano essere i rischi di una squadra che attacca con grande continuità l'area su di tutti siamo riusciti a compensarlo e poi nell'altra metà campo non con la stessa tipologia di continuità però siamo riusciti a trovare a turno terminali che ci hanno permesso di tenere Varese a distanza Unica nota stonata l'infortunio di Capitano Delfino Sì alla fine del primo quarto purtroppo è stato un contatto di gioco e io onestamente non pensavo che si fosse rivelato di tale gravità ma abbiamo percepito subito le sue difficoltà a mettere a fuoco la situazione e niente e quindi abbiamo ridisegnato un po' tutto nell'intervallo Dopo cinque partite senza vittorie anche la vispesa era trionfato tornando ad ottenere i tre punti che mancavano da oltre un mese Sotto i riflettori dello stadio Benelli i biancorossi hanno ricamato un successo su misura battendo per 1-0 l'Olbia sbloccandola dopo 82 minuti compassati con Kevin e Cannavò che di fatto ha regalato alla vista l'ottavo posto in classifica facendola allontanare di cinque punti dalla zona play-out Stavo volando nel fango però alla fine sì sono entrato dalla testa giusta mi ha detto il mister sono contento di aver dato una maniera con Pai oggi la partita era difficilissima non difficile l'Olbia come pensavamo ha avuto un atteggiamento attendista e cercava poi di lavorare in transizione con 3-4 giocatori che avevamo noi dietro a campo aperto quindi la situazione più difficile da difendere per qualsiasi squadra i complimenti ai ragazzi sono perché comunque sapevamo di venire da due pareggi e che la partita in casa di oggi era da vincere infatti le avevo chiesto di trovare il modo in cui vincerla e non pensare a vincerla a tutti i costi perché altrimenti vai in confusione e vai in ansia e poi i complimenti vanno anche alla scelta che hanno fatto loro in campo di capire quando bisognava accelerare dal punto di vista del possesso perché oggi secondo me la differenza della squadra è stata lì quando abbiamo scelto di andare a giocare sugli esterni e cercare la profondità esterna altro successo anche per l'Ital Service che dalla sfida casalinga di venerdì contro Avellino esce vittoriosa per 3 a 1 grazie alla doppietta di Borruto e alla rete di Onorio bianco-rossi che sono saldamente secondi in classifica ma che questo mercoledì hanno già la possibilità di avvicinarsi al primo posto affrontando fuori casa i primatisti del Padova nella pallavolo invece trasferta indigesta per la Megabox Vallefoglia che torna da Novara con il risultato di 3 a 0 a favore dei padroni di casa nel rugby altra batosta per la Fiorini Pesaro che dal match disputato a Noceto è uscita con il passivo pesante di 34 a 12 e con lo sport si conclude questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo però qualche appuntamento di questo lunedì a cominciare dal convegno che vi trasmetteremo questa sera alle 20 e 10 convegno dal titolo Quale futuro per il nostro territorio un nostro speciale dedicato a questo appuntamento tenutosi giovedì alla Rotonda Amare di Senigallia si tratta di riflessioni in tema di rigenerazione urbana e riforma della legge regionale urbanistica con l'assessore regionale all'urbanistica Stefano Aguzzi che sarà uno dei tanti ospiti intervistati in questo nostro speciale appuntamento dunque alle 20 e 10 e poi alle 21 e 20 come ogni lunedì torna check up obiettivo salute il nostro format appunto di benessere e salute in collaborazione con Fisioradi Medical Center come sempre prima edizione alle 21 e 20 poi la replica alle 23 e 15 e poi le tante repliche che vedete in grafica tutti i giorni dal martedì alla domenica a seguire alle 21 e 30 la visita del ministro della ministra Elena Bonetti ministra delle pari opportunità all'università di Urbino ve ne abbiamo dato notizia nei giorni scorsi su Rossini News ne parleremo in maniera più approfondita questa sera con la ministra Bonetti che la vedete in grafica con il rettore Giorgio Calcagnini che nell'Ateneo Urbinate ha parlato di parità di genere nelle scelte strategiche del paese appuntamenti ma non solo vi ricordiamo anche la nostra app la app di Rossini TV uno strumento che vi invitiamo a scaricare se non l'avete ancora fatto perché è appunto una opportunità facile per consultare la nostra programmazione rivedere le notizie o semplicemente per inviare segnalazioni alla nostra redazione ed è davvero tutto per questa edizione delle telegiornali Rossini News da parte mia e di tutta la redazione vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi Grazie a tutti